Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta di uno schema dopo l'altro fino alla distanza. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro, è colui il quale è disposto a morire e guadagnerà un centimetro. Montari gol, pareggio del Milan con Montari. Montari gol, pareggio del Milan con Montari.